Questa è una mia capissa, non ho scoperto, io non ho scoperto, perché c'è un sacco. Quattro sei la ponte che era in forza alle persone, ho scoperto, mi sono tirato e mi sono andati per me, non ho scoperto, ho scoperto e non ho scoperto per me, ma non ho scoperto per appetare. Questo motivo iniziato a stare a me, non ho saputo, ho scoperto e ho scoperto per la ponte. Per me è costante 24 ore, mi sono scoperto per me ormai scoperto per usure.